E poi giornata tipo ci si sposta al settimo piano, il settimo piano è il piano delle cure palliative, il piano un pochino più complicato ecco, dare un momento di pausa al bambino, al genitore, perché alcuni sono recittivi, alcuni tornano nello stesso reparto. Perché uno psicologo, un medico, persone che hanno studiato, hanno fatto un percorso per poi arrivare a lavorare in ospedale, sanno perfettamente come relazionarsi con i bambini, con i pazienti. Quando nasci volontario, come nel tuo caso, secondo me questa è una cosa che spaventa molti, come devi porti nei confronti di un bambino magari sapendo che quelli sono, adesso non voglio appesantire troppo, però è la realtà e quindi va raccontata così com'è, magari sapendo che sono gli ultimi giorni della sua vita, le ultime settimane della sua vita. Come si fa quando sei un ragazzo con la chitarra e non un medico che magari ha studiato per anni come comportarsi? Lì la formazione è sempre in itinere, nel senso che ci si basa molto sulla osservazione di altri volontari più esperti di te e comunque si studiano cose, non è un percorso che ci si improvvisa.